buonasera buonasera dal circuito internazionale tazzo nuvolari in mantova con dinamite soliti due giri commentati per lui per farvi vedere un po questo circuito a dir poco fantastico insidioso allo stesso tempo abbastanza facile vediamo di fare i due giri e non beccare nessuno che si sta allenando spero di farvi divertire e soprattutto vediamo se riesco a parlare questi sono i cancelletti di partenza chiaramente monster prima curva a sinistra dove arrivano a fuoco i 40 a staccare e appoggiarsi su questa sabbia che si porta fuori molto bucata ormai è sera ormai sono le 4 in oltrate andiamo su qua è un salto che si scoppa chiaramente nel mondiale è tutto molto più incazzato doppietto salto abbastanza corto andiamo ad appoggiarsi andiamo a fare il salto che ho visto Adamo prendere in comando nel mondiale del 2022 andiamo su questo triplo che si fa riposare in aria qua ho già appunto questo doppio e andiamo sull'ultimo dove si scala in aria una e si inserisce subito tecnica nel canale sinistra eredic wave ancora devo capire questo è il secondo diciamo turno un po aggressivo per finalmente bello questo salto e andiamo a piegare bellissimo qua si inserisce a destra la parte che vi tacce di più dove Cairoli si andava ad appoggiare soprattutto qua qua si andava ad appoggiare così e qua si strappa e si va su che questo era un quadro al mondiale andiamo sul primo ferro di cavallo che ci porta giù questo dotto che non faccio ma che vediamo se domani riuscirò a fare qua andiamo su per il secondo ferro di cavallo che ti porta in altissimo per poi scendere in più fiata con una fase di compressione fortissima e andiamo a cercare l'appoggio qua lupino ha fatto una gran fatica nell'ultimo nazioni non so se ve lo ricordate in questa sezione non ce la faceva più era scoppiato qua occhio perché è vicida si inserisce a destra che non c'era neanche questa altro triple andiamo qua destra sul salto dell'arrivo cortissimo e andiamo poi tutto a sinistra sulla prima curva solita ci va ad appoggiare e adesso la pista la conoscete e guardatevi un po' di sound insieme a dinamite il bel di Matova alle 4 e mezzo del pomeriggio e andiamo in Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forse perché è vero. Molto scalinata. Sembra un po' Lodi. Mi importa un po' Lodi, ragazzi. Un po' più lunga. Più guidabile. Chiaramente più guidabile. Di Lodi. Soprattutto a questo punto è bastardissimo. Questo è un doppio da fare, eh? Che non so che faccio oggi, nessuno fa. Ma quello è da fare. Non io. Non so che faccio. Ma c'è anche un po'. C'è. Lo so che c'è. Si va a cercare un po' quel terriccio che tiene. Perché ormai si è viscidissima, cazzo. È viscidissima. È viscidissima. È viscidissima. È viscidissima. È viss standby. È viscidissima. È viscidister? È viscidissimo? È viscidissimo? Compressionissima qua Ci va in compressione Questo è da fare domani Questo è da fare Domani Stiamo capendo il tarciato Prima volta che ci giro Oh scalinato Al pelo Prima volta Qua scivola Lascia il treno avanti Bravo Che bello Che bello Che flow Che flow In una pista Da mondiale E come c'era Dynamo Qua faccio tagare Che flow Bellissima Qua è scalinata Uber Da pedana Dynamo Da pedana Dynamo Stringi ste gambe Una marcia in grana Alla in aria Bravo La riscaldiamo qua Lunghi un po' lunghi Ma ci stiamo Ci stiamo Quella con quattro e mezzo Si doppia Mamma mia Come la spezza Wow Che flow Che flow Dynamo Che flow Dynamo Non è per chiudere Lo colo lì Domani 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 Oh bucata Bucata Che pinta Che gas Che gas Che gas Mamma mia Mamma mia Giù in aria di una E questa è la Mantua E questa è la Mantua Con Dynamite Che flow Che flow Mamma mia Una pista da Mondiali Tirata Questo flow Io non lo so Dove andremo Non lo so Cosa faremo Ma mi da una Mi da un Mamma mia Che moto Mamma mia Che sport Mamma mia Cosa vi siete persi Voi che avete mollato Bella ragazza Alla prossima Nel prossimo video Che gas Che gas Grazie a tutti.